Franco Napolitano, papà di Antonio, uno dei pilastri della Juniors, uno di quelli che quando gioca la Juniors è stato quasi sempre presente. Che rabbia ti fa vedere questa Juniors che all'ultima ha sembrato accarezzare il sogno di racciuffare il Castelbuono e poi cosa è successo? Sì, forse sicuramente hanno sottovalutato un pochino la gara col Caccamo, però dobbiamo dare merito a questi ragazzi che veramente hanno dato il massimo grazie al mister, sia Lopiparo che Mineo, perché come sappiamo una parte fa parte del gruppo del mister Mineo della prima squadra, l'altra parte della Juniors, sono riusciti a mancamare una bella squadra e il risultato si vede perché molti di questi Juniors comunque ora in quest'ultimo periodo sono passati pure in prima squadra, quindi significa che i risultati sono venuti. Poi se si vince o non si vince il campionato, sicuramente vincere è bello, però la vittoria sia con questi ragazzi che se riescono ad andare avanti sicuramente è un ottimo risultato. Chi invece ultimamente sta registrando, ahimè, qualche battuta d'arresto è la categoria allievi. Sabato scorso una sconfitta in casa con la Folgore. Massimo, che sta succedendo a questi ragazzi? Allora, sta succedendo che sicuramente i ragazzi un po' raggiunta quasi la salvezza, un po' mentalmente hanno mollato. Infatti già con il mister Sparacino da martedì abbiamo un po' invertito la rotta, nel senso abbiamo fatto capire ai ragazzi che ancora il campionato è lungo e al di là della salvezza o meno, non ci possiamo permettere di fare altri passi falsi perché vincere, come diceva, è bello. Ma nello stesso tempo vogliamo dare soddisfazione innanzitutto a loro stessi e poi anche ai tifosi che ci seguono e alla società che è dal primo giorno che ci sostiene. Franco, tu hai giocato, sai un po' quella che è la situazione del calcio dilettante, ma cosa serve a un ragazzo per poter giocare a calcio? Quali sono le caratteristiche che deve avere innanzitutto? Io ho lavorato diversi anni con Tonino Cerro, quindi se parliamo di qualche cosa, molte persone lo conoscono. La prima cosa che mi ha insegnato è che un ragazzo per essere calciatore, principalmente deve esserlo in testa. Quindi se un ragazzo vuole fare il calciatore ed è mentalmente preparato può superare qualunque ostacolo. Naturalmente deve essere anche un ottimo giocatore, ma se è un ottimo giocatore ma mentalmente nel cuore non c'è il calcio, secondo me non è strada che spunta. Quindi noi dobbiamo sperare in questi ragazzi che gli mettano il massimo impegno e non abbandonino questo sport che è favoloso ed è bellissimo. Poi qua a Bageria io vengo da Palermo e sono contento per come hanno accolto me, mio figlio. Siamo in una bella struttura anche se lo stadio non è agibile, però mi sento qua in una famiglia veramente fantastica. Massimo, ora guardiamo a queste ultime partite, però cerchiamo di tracciare anche un bilancio. Dico alla fine, anche se c'è stata qualche battuta d'arresto, dopo tutto non dobbiamo dimenticare che siamo pur sempre una matricola, che la squadra l'anno scorso è andata tra i provinciali e il primo anno tra i regionali. Comunque tutto il bilancio potrebbe anche essere positivo? Allora il bilancio sicuramente è positivo perché a inizio campionato l'obiettivo era una salvezza tranquilla. Dico siamo settimi in classifica, abbiamo 12 punti di margine rispetto alla terz'ultima, ci aspettano altre sette partite e sicuramente vogliamo andare sempre più su. Dico poi, ripeto, è sempre il campo a decidere, però siamo soddisfatti. Mi dispiace solo e magari perdere in un certo modo, perché noi diciamo sempre che perdere ci può stare, però lottando. Ci sono state alcune partite dove non abbiamo lottato e questo è quello che fa un po' più di rabbio, perché il bagheria non è abituato a perdere in questa maniera. Comunque devi precisare che voi giocate, io li seguo anche gli allievi, devi ricordare che i vostri ragazzi sono un anno come categoria, sono anni indietro, quindi diciamo questo sicuramente gli dà grande merito. Questo sicuramente per l'anno prossimo sarà un'ottima partenza. Siamo soddisfatti per questo, considera che noi abbiamo affrontato squadre, o meglio, società dove ci sono ragazzi che giocano da quando sono dai primi calci a arrivare agli allievi. Noi è un gruppo che abbiamo formato quest'anno, è la prima volta che giocano, abbiamo molti 2002, però vogliamo noi sempre il top dei ragazzi e vogliamo sempre vincere. Quindi quando attraversiamo un periodo così siamo tutti tristi e vogliamo subito già da sabato portare i tre punti a casa e fare divertire poi i ragazzi.